In solito furto, quello avvenuto nella notte tra domenica e lunedì 21 marzo, quando due individui a volto coperto, dopo aver forzato la porta d'ingresso, si sono introdotti nella sede del Teatro Reggio di Capitanata, in via Guglielmi, presso la chiesa della Madonna del Rosario, e hanno portato via una cassetta contenente gli incassi, degli spettacoli in cartellone la settimana scorsa, e della vendita dei biglietti per il doppio spettacolo Grazie Graziella Graziò e Rigrazia di Graziella Rigrazia, la vendetta, in programma il 7 e l'8 aprile al Teatro del Fuoco. Amareggiati i gestori del gruppo teatrale Enarchè, anche perché non sono soliti lasciare denaro in teatro. Non si risparmiano neanche i teatri per quanto riguarda i furti o le rapine. Sì, infatti, per la prima volta, forse a Foggia, capita in un teatro un furto con scasso, ma soprattutto, anche se le strutture sono separate, all'interno di una parrocchia, cioè quindi è questo che davvero fa molta rabbia e ci crea un dispiacere non indifferente. Però, come dicevamo nel comunicato stamattina, noi cercheremo di riprendere la nostra attività, anzi di non fermarci proprio e di continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto per grandi e per piccini. Il messaggio è, mai come in questo momento, noi come organizzazione, come associazione, come agenzia di animazione, che è la Omnia Service, poi che cerca, quando si tratta di organizzare le cose, di essere di supporto, mai come in questo momento abbiamo bisogno della presenza e dell'aiuto della gente che normalmente è da tanti anni ci segue. Quindi è una Pasqua, magari giustamente, in passione, perché è la passione di nostro Signore. Quindi in questa settimana siamo stati introdotti ancora meglio. Che vogliamo fare? Che Dio ce l'amanti buoni in questo caso.